Allora, Beppi, ma cos'è quella maglietta che indossi? L'ultima idea che ha avuto qui presente Rina Badini, la matiradette, come avete a dire, no, è la maglietta nuova del canine di Colzate che affianca quella che già c'era del canine di Colzate, solo che questa c'è anche il logo del Beppi. E quindi, sa mai che io magari, unendo le due passioni del canine e del Beppi, Gabbè, voglio comprare 10 euro, dai, con 10 euro compra cos'è. E Rina, perché il Beppi in questo progetto? Il Beppi in questo progetto perché lui in incognita comunque lavora sempre per il canile. In incognita? Eh, ma con l'ordine di Passamontagna. Per il canile. Ai concerti, noi ci siamo sempre con i banchetti perché lui ci autorizza a farlo. C'è comunque un consiglio, lui ha sempre la risposta giusta, pronta. Insomma, ci sono. Ci sono perché la Rina è una di quelle che aiuta i cani. Non è solo la responsabile del canine di Colzate. La Rina aiuta veramente i cani con le parole, con i fatti, con tutto quello. Il suo tempo lo dedica ai cani. Il minimo che posso fare è mettere a disposizione il mio logo. Ho ancora la fortuna di avere tanta gente che mi vuole bene, che segue il Beppi. Se posso convincerla a seguire anche il canile di Colzate, ben venga, why not? Rina, ma perché servono risorse al canile di Colzate? Allora, poi premetto che è una punta di orgoglio per noi avere il logo del Beppi. Eh, perché è un artista, un grande, grande artista. Serve, prego, serve perché il canile di Colzate ha sempre bisogno di soldi dal momento che abbiamo una marea di richieste telefonate, di aiuti esterni, non solo per il canile. In momenti di difficoltà li stanno passando tante famiglie e di conseguenza non vogliono abbandonarci il canile al canile, ma cercano aiuto. Per cui noi siamo lì pronti. Se possiamo aiutarli, anche finanziarmente lo facciamo. E questo è un modo per vendere queste magliette, per ricavare dei fondi, insomma. Dove servono, eh? Mia che princarria aveva domandato i soldi al canile, eh? E quindi si possono trovare ai concerti del Beppi, Sulla pagina Facebook del canile di Colzate, oppure passate direttamente al pomeriggio, mi trovate sempre al pomeriggio giù al canile e ne parliamo, prendo le ordini e costa 10 euro la maglietta, per cui non è un gran costo. Ma che colori ci sono, Rina? Esatto. A parte il nero e il ciclamino qui, cos'è? C'è il nero, il ciclamino e il grigio, mi sembra. Ecco, al momento. Dopo se avremo migliaia e migliaia di richieste. Per richieste penseremo anche a una varietà più ampia. Allargare un po' il discorso dei colori, vediamo. Tipo il filigetti la vorrebbe amaranto. Amaranto, sì. Amaranto può andare. Faremo anche amaranto. Perfetto, grazie.